Siete in compagnia di SPS Italian. Provate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. Medio Oriente, Israele annuncia di aver ucciso Safiaddin, considerato il successore di Nasrallah alla guida di Hezbollah. Samoa, Re Carlo ha atterrato ad Apia per il vertice del Commonwealth. Oggi è il turno di Anthony Albanese. Australia, attenzione a Melbourne. Un gruppo di estrema destra interrompe una manifestazione per i diritti dei rifugiati. Sport, calcio, Champions League, Atalanta fermata in casa dal Celtic. L'Inter vince 1-0 a Berna contro gli svizzeri dello Young Boys. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario in italiano di Radio SBS di giovedì 24 ottobre del 2024 che apriamo dal Medio Oriente dove le autorità israeliane hanno annunciato di aver ucciso Hashem Safiaddin, un alto funzionario di Hezbollah, considerato il probabile successore di Hassan Nasrallah alla guida dell'organizzazione sciita. La morte risalirebbe ad inizio ottobre e sarebbe conseguenza di un raid aereo in un quartiere meridionale di Beirut nel quale sono state uccise altre 25 persone, secondo Tel Aviv tutte affiliate a Hezbollah. Nonostante questa ennesima perdita, Mohamed Afif, portavoce dell'organizzazione, ha dichiarato che il gruppo non smetterà di sferrare attacchi contro Israele. The eyes of the fighters of the Islamic resistance are watching and their ears are listening. If our hands could not reach you the previous time, then it's just a matter of days, nights and a field between us and you. Intanto, nella giornata appena trascorsa, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi aerei su Tiro, la quarta città del Libano, dopo averne ordinato l'evacuazione. Migliaia di civili in fuga e Hezbollah ha risposto lanciando razzi su Tel Aviv. Ascoltiamo alla riguardo il servizio della BBC a cura dell'inviato a Beirut, Jonathan Head. This is the first time the actual historic city centre has been targeted. It was an entire neighbourhood, right next to the UNESCO World Heritage Site. I mean, this is one of the most illustrious and ancient cities of the classical world. One assumes that Israel believes it has legitimate targets there. They haven't spelled out why they're attacking it. Many of the other towns of the south have been battered for weeks now, and their populations have moved into bigger cities like Tyre. So we're going to have yet again, and this is such a familiar pattern now, another wave of displacement, another wave of fear in one of the big cities that perhaps they're now going to become a regular target for Israeli bomb strikes. Voltiamo pagina. Ieri, poco prima di mezzogiorno, Re Carlo d'Inghilterra e la regina Camille hanno lasciato Sydney diretti a Samoa, dove il sovrano prenderà parte al vertice dei capi di governo del Commonwealth. All'ordine del giorno, l'elezione del nuovo segretario generale, ma soprattutto temi scottanti come i cambiamenti climatici e i possibili risarcimenti per i danni del colonialismo. Freddy Tuilagji, consolo onorario del Regno Unito a Samoa, ha detto che la coppia reale sarà accolta positivamente. Le sfide del vertice sono enormi. I piccoli stati insulari del Pacifico chiedono infatti azioni concrete contro l'inalzamento del livello dei mari, che minaccia la loro stessa esistenza. Oggi anche il primo ministro Anthony Albanese raggiungerà Apia. Ancora in Australia, a Melbourne, dove martedì sera un gruppo di estrema destra ha interrotto una manifestazione a favore dei diritti dei rifugiati, una protesta organizzata per portare all'attenzione dell'opinione pubblica il problema degli immigrati che da cento giorni chiedono il riconoscimento proprio dello status di rifugiati politici. La polizia è intervenuta utilizzando spray al peperoncino per contenere il gruppo di ispirazione neo-nazista e le autorità hanno condannato l'accaduto. Il leader dell'opposizione federale, Peter Dutton, ha affermato che l'incidente non sarebbe mai dovuto accadere e ha ribadito la necessità di mantenere l'ordine pubblico e di proteggere i diritti garantiti dalla Costituzione. Anche la premier statale, Jacinta Allen, ha condannato gli uomini circa 20 coinvolti in questa vicenda, vestiti di nero e con il volto coperto hanno esibito uno striscione offensivo con un chiaro riferimento ad uno slogan nazista e hanno urlato slogan razzisti come l'Australia per l'uomo bianco. Allen ha definito codarda l'azione del gruppo e ha sottolineato la necessità di affrontare ogni forma di estremismo. Sebbene la polizia abbia utilizzato spray al peperoncino per disperdere i manifestanti, non ci sono stati arresti. Il governo sta prendendo in considerazione misure legislative per affrontare atti di violenza e di intimidazione, ha detto Jacinta Allen. La crescente attività dei gruppi di estrema destra solleva preoccupazioni in merito alla sicurezza delle comunità vulnerabili in Australia. Aran Milvaganam del Tamil Refugee Council ha descritto la situazione come pericolosa per i rifugiati che esprimono le proprie opinioni. La politica italiana adesso perché Francesco Spano si è dimesso da capo di gabinetto del Ministero della Cultura. In una lettera indirizzata al ministro Giulio Spano ha spiegato le ragioni della sua decisione scrivendo Il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali, non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero necessaria. Ritengo pertanto doveroso fare un passo indietro. Su questa vicenda si è espressa anche la Premier Giorgia Meloni, intervenuta a Roma alla festa per gli 80 anni del quotidiano Il Tempo. Io non ho incontrato il ministro e le confesso che ho anche capito abbastanza poco della vicenda. Dall'inizio tendenzialmente non me ne sono occupata. Da Fratelli d'Italia mi dissero guarda c'è del nervosismo per questa nomina. Io ho detto parlatene col ministro perché penso al di là di tutto che ciascun ministro debba scegliere le persone con cui lavora essendo dovendosi assumere le responsabilità del lavoro che fa. Sempre in occasione della festa per gli 80 anni del giornale Il Tempo la Premier Giorgia Meloni è tornata a parlare dell'accordo con l'Albania sui migranti. Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli ma li supereremo, ha detto Meloni. Il protocollo Italia-Albania funzionerà. Non consentirò che una soluzione che abbiamo individuato nel pieno rispetto del diritto italiano ed europeo venga smontata perché c'è una parte della politica che non è d'accordo. Ho preso un impegno con gli italiani e sono determinata ad andare avanti, ha concluso la Premier. Diamo uno sguardo ai cambi. Questa mattina è stabile il dollaro australiano che vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 66 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport calcio Champions League nuove le gare in programma nelle ore scorse e due le italiane in campo. La prima è stata l'Atalanta che in casa al Geo Stadium di Bergamo è stata fermata sullo 0-0 dagli scozzesi del Celtic. Poco fortunata la squadra di Giampiero Gasperini che nel primo tempo ha colpito un legno con Pasalic nero-azzurri che salgono a 5 punti in classifica dopo tre giornate. Pochi istanti fa si è conclusa poi a Berna la sfida tra lo Young Boys e l'Inter. I campioni d'Italia l'hanno spuntata in extremis grazie al gol di Marcus Thuram al 93esimo dopo che in precedenza l'attaccante nero-azzurro Marco Arnautovic si era fatto parare un calcio di rigore. Grazie a questa vittoria l'Inter sale a quota 7 punti in classifica. Nelle altre gare da segnalare il netto 5-0 del Manchester City sullo Spartapraga la vittoria per 4-1 del Barcellona sul Bayern Monaco la sconfitta interna dell'Atletico Madrid contro i francesi del Lille e la vittoria per 1-0 del Liverpool a Lipsia in classifica adesso guidano a punteggio pieno due squadre inglesi proprio il Liverpool e l'Aston Villa a 9 punti poi a 7 punti ci sono 7 squadre tra le quali Manchester City, l'Arsenal e proprio l'Inter. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi ad Adelaide cielo parzialmente coperto con una temperatura massima di 20 gradi a Brisbane isolati i piovaschi giornata molto calda nella quale la temperatura raggiungerà i 32 gradi cielo in prevalenza sereno a Cairns in questo caso 33 gradi la massima a Canberra possibili piogge nel pomeriggio 21 la massima giornata in prevalenza di sole a Darwin dove la colonnina di Mercurio toccherà i 35 gradi a Hobart precipitazioni in aumento nel corso della giornata e una temperatura massima di 15 gradi cielo variabile a Melbourne dove la massima sarà di 17 gradi viceversa sereno a Perth dove la massima raggiungerà i 29 gradi per finire a Sydney forti piogge nel pomeriggio con una temperatura massima di 23 gradi Cliccate mi piace, condividete, commentate seguite SPS Italian su Facebook Grazie per la visione